L'inizio della svolta per la bonifica dell'exis o chimica passa obbligatoriamente nel ricordo delle vittime della fabbrica dei veleni. Mentre la gru sta caricando 15 cubi di cemento e amianto diretta alla discarica di Matera, invitiamo il sindaco Foti a una riflessione. Pensare che ci sono voluti 30 anni, che in questi anni sono morte delle persone, che l'amianto è stato respirato da un intero quartiere e da un'intera città, dove c'erano tanti muri di gomma, dove la politica, probabilmente anche la magistratura, poteva fare anche di più. Io confesso che ogni volta che entro qui mi cala proprio l'angoscia nel cuore, perché penso a quello che è accaduto qui nell'indifferenza generale e non ho da criticare e urlare la responsabilità dell'imprenditore soltanto. Io urlo a piena gola la responsabilità dell'indifferenza che c'è stata intorno a queste vicende, perché i segnali c'erano stati. Penso a queste povere persone che dovevano guadagnarsi un salario e hanno lavorato in qualsiasi condizione, in condizioni disperate, le loro famiglie e a tutto quello che è accaduto anche nei mesi e negli anni successivi. Io credo che, a prescindere di quello che dovrà accadere su quest'area, penso che le prossime amministrazioni dovranno lasciare un simbolo in quest'area, ammonito e a futura memoria e per onorare vittime, morti e ammalati che ancora ci sono. Io però penso anche, lasciatemelo dire, di aver un merito, quello di aver declamato ad alta voce, ancora prima che fossi eletto, che mi sarei occupato della vicenda isochimica. E ho onorato questo impegno. Stamattina per me è una bella giornata. Foti elogio all'impegno per le operazioni di bonifica svolte dalla ditta di Civitavecchia, il responsabile del procedimento Michelangelo Sullo, l'assessore all'ambiente Penna, e guarda in positivo al futuro del sito. La grande sfida è ora la rimozione del silos più alto, la torre dei veleni. Un'operazione complicata, ma che avverrà con tutte le cautele possibili, rispettando ovviamente anche l'ambiente esterno, ha sottolineato Luca Marsella, il responsabile della sicurezza per l'impresa. Parlare di tempi quando si parla dell'isochimica è sempre azzardato. Intanto dalla regione arrivano buone notizie, sblocati 16 milioni di euro per la bonifica.